Non basta un uomo in più al Vanchiglia per aver ragione della roccia. Il Vanchiglia è rimasto con un uomo in più per oltre 35 minuti per l'espulsione del numero 4 dei padroni di casa. Una gran bella partita soprattutto nel primo tempo dove la roccia ha sprecato grosse occasioni ma poi ha punito subito all'inizio della ripresa. Già al secondo minuto è subito pericolosa la squadra di casa. L'estremo Cappello interviene al limite dell'area di porta anticipando Blanda. All'undicesimo è Cappello, classe 97 smanaccia un cross del coetano Cestagalli evitando il pericolo. Al ventitresimo incantano Midali e Maggi. Il primo lancia un cross dalla sinistra per la testa di Maggi che manca il bersaglio di un nulla. Al ventisesimo spettacolare azione corale. Cestagalli pesca lontano sul fronte opposto Midali che accentra per Blanda rovesciata del numero 9 a lato di un nulla. All'undicesimo viene atterrato in area Vita. Non ci ha pensato un istante Iodice, il direttore di gara, a decretare il calcio di rigore. Dal dischetto Nicolò Lazzarini il capitano calcia centrale e Cappello non ha nessuna difficoltà a bloccare a terra. Spreca così Lazzarini una grossa occasione d'oro. Alla trentacinquesimo si vedono anche i gialli del Vanchiglia ma Cravetto spreca in contropiede sparando abbondantemente a lato. Al trentanovesimo Roce vicino al gol. Blanda da pochi passi mette sotto la traversa ma Cappello alza e sventa il pericolo. Nella ripresa secondo minuto e cinquanta secondi il sole illumina il campo e Lazzarini che è indisturbato gira in rete un invitante suggerimento di Cestagalli. Roce quindi vantaggio 1-0. Al nonno minuto trattenuta dalla maglia da parte di Andrea Maggi. L'avversario che Ferrone finisce a terra. Doppio giallo e quindi rosso diretto e partita finita per il numero 4 dei padroni di casa. Al ventiduesimo Reo appena entrato in area Rizzetto che si salva scampato pericolo per la Roce. Infatti il Vanchiglia fa valere la prevalenza dell'uomo in più. E al trentagotresimo Rizzetto rispinge un tiro ravvicinato. Si difende con ordine comunque la squadra di Rottolo. Dopo 4 minuti di recupero finisce con Roce 1-0 tra le applausi del pubblico di casa.